Ciao, sono Duke, non preoccupatevi, non sta laggando, l'audio che sentite non è quello del video. Quello che sta succedendo è che questa è una sintesi di quello che è successo su Don't Starve nel mio ultimo live show dove avevo anche la webcam. Faccio questo video perché la mia vecchia mappa di Don't Starve purtroppo non si può più aprire perché è uscita una nuova patch che non mi consente di aprire la mappa creata troppo tempo fa. Quindi purtroppo non è colpa mia, hanno proprio deciso che non sono retrocompatibili mappe create troppo tempo fa. Quindi ho voluto farvi un piccolo riassunto perché non ho voglia di vedersi quasi due ore di partita del live e voglio mostrarvi quello che è successo. Innanzitutto ho usato la bambina che è un personaggio diverso che quando è buio può prendere fuoco, quindi non ha bisogno di fare luce quando è completamente notte. Abbiamo incontrato degli strani nuovi cavalli robotici, sono davvero strani però ho utilizzato due maiali a cui ho dato del cibo per combattere e sostanzialmente così mi sono risparmiato la battaglia. Perché ci hanno pensato loro? Stavo vicino, ogni tanto facevo una piccola carica giusto per dire ai maiali di attaccare e infatti sono morti e hanno droppato degli strani ingranaggi che non so ancora a che cosa servono ma penso che lo scoprirò. Inoltre vedete come combattono bene questi miei maiali. Io poi mi sono raccolto tutti i miei belli ingranaggi e sono a posto. Tra l'altro in questa mappa è pieno di wormhole che sono quelle sorte di portali dimensionali che permettono di viaggiare quasi istantaneamente da un posto all'alto della mappa anche molto lontani. Però per usarli bisogna pagare il prezzo che è sanità mentale, evidentemente è una cosa troppo pazza da fare. È un po' strano immagino vedere questo video con la mia webcam dove si vede io che parlo però ho l'audio che si sente diverso. Ma spero che non dia troppo fastidio. Ho pensato anche di metterci un qualcosa sopra ma non mi sembrava il caso. Ho trovato anche un pezzo che si chiama box qualcosa e dovrebbe essere un pezzo di una caldaia che non so ancora esattamente cosa serva ma presumo per costruire qualche tipo di macchina che fa qualcosa, non lo so con esattezza. Questa è una sorta di scacchiera, non ho capito bene a cosa serve, potrebbe essere un buon posto per fare una base e infatti mi ci ero fermato un pochino e ci ho fatto anche un fuoco stabile. Intorno ci sono dei fiori maligni, fiori oscuri, hanno un nome del genere e ne ho raccolti un pochino ma non so esattamente a cosa servono. Comunque poi qua mi sono spostato e sono andato in un posto dove c'era sia casa di maiali e sia un nido di ragni. Ho dato fuoco al nido di ragni, ha preso fuoco tutto, il maiale è rimasto preda dell'incendio nella foresta, sta bruciando tutto, io non sapevo cosa fare. Allora per passare il tempo ho deciso di uccidere un ape che mi ha droppato un pungiglione e poi ho notato che è tutto morto ed è sopravvissuto solo un ragnetto lì in basso a cui ho dato poi una bella lezione, l'ho ucciso e mi hanno droppato un bel po' di carne sia il maiale che i ragni e anche della seta, ossia delle ragnatele che si possono utilizzare per craftare alcune cose come la canna da pesca che farò dopo. Poi mi sono spostato verso sud per un buon tragitto e ho trovato questa specie di ponte fra due isolette che mi è sembrato un buon posto dove fare un accampamento e tra l'altro confina con questa zona, con tutta la paglia ed è pieno, davvero pieno zeppo di tane e di conigli quindi potrebbe essere un buon posto per trovare del cibo. Tra l'altro voglio anche dire perché questo video ha questo formato così strano ed è perché la registrazione del live è a 480p e per una cosa semplicemente di opportunità, ossia che non volevo creare un altro progetto sul mio programma di rendering ho importato tutto in un progetto a 720p e questa è la soluzione che ho trovato non odiatemi se avreste preferito semplicemente il video a 480p adesso ho portato tutto sommato, non è così lungo per una partita che ha durato davvero tanto tempo, mi pare circa due ore ho fatto la classica macchina della scienza che si fa con dell'oro, della pietra, un po' di tutto e mi serve per sbloccare nuove ricette per chi ancora non lo sapesse è comoda perché senza di quelle non si riesce a craftare cose molto interessanti poi possiamo vedere che ho trovato una stradina, l'ho percorsa, giusto così per vedere dove portava e ovviamente non porta assolutamente da nessuna parte, però non importa perché dopo una breve camminatina così a caso ho trovato una cosa piuttosto interessante, ossia un occhio osso o osso occhio all'inizio non ero proprio sicuro di che cosa fosse, non avevo idea temevo che fosse semplicemente la parte che spuntava e ci fosse un mostro nascosto sotto terra non so perché deve essere un qualcosa che c'entra con i pokemon, non lo so perché avevo questa impressione però gli spettatori dello streaming mi hanno detto di prenderlo infatti è arrivato poi questo incrocio fra un cane e una chest, si chiama Chester che poi è un gioco di parole in inglese, chest, chester e questa mi piace un sacco perché sostanzialmente è un animale domestico, un cagnolino che però funziona come una chest che ci segue è come avere uno zaino in più che però ci segue a quanto pare non serve nutrirlo però può essere attaccato dai mob quindi bisogna fare un po' di attenzione se non vogliamo che muoia poverino mi è simpatico e mi piace anche il fatto di utilizzare questo personaggio donna perché almeno non sta più malissimo con la ghirlanda di fiori in testa Wilson che è il personaggio maschio, stava davvero male qua niente, un piccolo accampamento provvisorio giusto per non rimanere al buio più che altro con questo personaggio posso anche rimanere al buio e lei fa un fuoco è una specie di piccola piromane e questa è una caratteristica molto adatta a me perché nel gioco anche a me piace bruciare tutto però se non faccio fuoco ho paura innanzitutto che dei mostri uccidano Chester e poi soprattutto chi guarda il video non vede niente, vede solo nero ah poi qua ho trovato un tacchino e ovviamente ho speso circa 10-15 minuti per inseguirlo tra l'altro all'inizio la furia e la voglia di distruggerlo completamente mi ha portato a non notare che lo stavo attaccando con l'ascia invece che con la lancia e l'ascia fa meno danno però in quel momento non capivo niente, volevo solo uccidere il tacchino perché non c'è pietà per i tacchini ho cercato di utilizzare il trucco del farlo incastrare in un angolo però funziona solo questo trucco se l'angolo è davvero difficile uscirne se invece ha un angolino piccolo come quello non si riesce tanto bene tra l'altro in questa zona è pieno di piccoli stagni dove vivono le rane le rane sono un modo particolare perché non fanno tantissimo danno però quando ti colpiscono ti tolgono un oggetto e qua ho spinto il tacchino contro le rane e non ero nemmeno sicuro al 100% che fosse una cosa sensata era un po' un tentativo l'ho spinto contro le rane e queste l'hanno iniziato ad attaccare e dato che gli avevo già atti dei colpi anch'io l'hanno ucciso allora dopo ho ucciso anche le rane perché in Don't Starve non vale la regola del il nemico del mio nemico è mio amico qua il nemico del mio nemico è ancora mio nemico tutto è mio nemico in Don't Starve tutto è nostro nemico tranne Chester che è l'unico amico che abbiamo perché anche i maiali ci aiutano solo per cibo ma non sono dei veri nostri amici quindi non fidatevi comunque niente questi sono gli stagnetti e ho creato anche una canna da pesca non proprio in questo momento un po' dopo ho creato una canna da pesca e la canna da pesca si può usare per pescare qualcosa immagino pesce da questi stagnetti che però non hanno esattamente un colore invitante ma non importa ho anche creato delle palizzate l'ho creato attorno a questo ponte così ho già i bordi protetti sostanzialmente perché c'è solo il mare e a questo livello del gioco penso che non sia possibile venire attaccati dal mare almeno spero quindi mi sono un po' protetto ci voglia un bel po' di legno per farlo però niente almeno un minimo di protezione poi qui ho creato un altro incendio che si è propagato un po' troppo in fretta e qua scappavo perché avevo paura che ceste bruciasse a quanto pare non ho imparato la lezione da prima perché in questo incendio mi è morto un altro maial che avevo domesticato dandogli della carne di ragno però diciamo che questa è la mia riserva di carbone e ho trovato ovviamente dell'altra carne di ragno carne di maiale e altre ragnatele quindi tutto sommato non è stata una mossa così negativa qui raccolgo tutti i miei drop interessanti perché comunque la carne è sempre utile poi mi hanno detto che le verdure curano più fame e un pochino di vita mentre sì questa è la verdura mentre la carne cura più vita e solo un pochino di fame qua entro in un wormhole e vengo proiettato in una zona che però ha tanti pezzini di pietra questo è stato positivo però attorno a questa zona paludosa strana e se voi provate ad andarci dentro escono dei tentacoli dalla terra che vi fanno un sacco un sacco di danno qua dormo perché mi serveva per ripristinare la sanità mentale ed è sostanzialmente il punto a cui ero arrivato prima però un'altra cosa che avevo fatto era stata anche difendermi da una serie di cani sapete quei cani che avevo già incontrato anche nella serie con Wilson che si chiamano Hound che sono molto aggressivi però questa volta ero preparato e quindi semplicemente con qualche colpo ben assestato e un po' di kiting come si dice in Starcraft ossia farsi seguire per fargli andare a vuoto i loro attacchi per colpirli nel momento giusto sono riuscito ad ucciderli e questo è sostanzialmente tutto per quanto riguarda questo rinizio della serie di Don't Star il motivo per cui non l'ho fatta su youtube è che non volevo farvi annoiare facendovi rivedere le fasi iniziali del gioco ma volevo subito buttarvi nel vivo dell'azione e riprendere il livello a cui ero arrivato prima se invece volete vedere davvero tutto quello che è successo potete cliccando sul video raggiungere sempre qua su youtube il video integrale però è molto lungo e sostanzialmente questi sono stati i momenti cruciali spero che sia stato interessante spero che non vi sia dispiaciuto abbandonare Wilson ma come ho detto è una una situazione indipendente dalla mia volontà perché è imputabile ai creatori del gioco che hanno deciso di non rendere retrocompatibile la nuova patch con tutte le mappe anche quelle create molto tempo fa quindi questo è tutto vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo ciao a tutte ciao a tutti Grazie a tutti.